Sì, sono partite veramente difficili, la tensione è quella che può fare gli scherzi, magari perdendo un set male, riuscire a riaffrontarlo diventa fondamentale. Noi siamo partiti fortissimo e forse loro hanno sbagliato un pochino in battuta nel primo set, ma io credo che siamo riusciti a imporre il nostro ritmo. Simone ha giocato un'opera di eccezionale e nei momenti decisivi siamo riusciti a mettere tante palle belle per terra e io credo che questo sia l'altro per me. Alla vigilia Lorenzetti aveva chiesto un approccio più determinato, più aggressivo, è arrivato e forse da quel punto di vista è stato anche un buon viaggio per il resto del match. Sì, ormai è sempre più determinato, ma più determinato di così diventa una gara 5 che affronteremo mercoledì e insomma diventa la chiave quella sicuramente l'approccio alla partita per riuscire a mettere il piede in campo con una partenza subito a sprint e vincere il primo set in quell'anno secondo me è stato grandioso. Luca, bisogna rompere questo fattore campo però mercoledì? Sono tanti palazzetti difficili, Perugia è uno di questi sicuramente, dobbiamo sicuramente vincere una partita fuori casa, crediamo nel tie break e crediamo che si possano buttare tutte le carte in campo in quel momento.